Nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello 2023, Heidi Baci ha modo di spiegare solo in parte cos'è successo quando ha deciso di abbandonare il gioco. Prima di arrivare a questo importante momento, Alfonso Signorini si collega con la casa e manda in onda una clip con i momenti che hanno portato l'ex Gfina a prendere questa dura decisione. Ovviamente non sono mancate le immagini del confronto tra Heidi e il padre. L'incontro ha diviso il pubblico. Mentre nella casa la maggior parte dei concorrenti ha giudicato negativamente il discorso fatto dal padre. Massimiliano Varrese in diretta stasera ammette che, fa male vedere queste immagini. Detto ciò, si accanisce contro il padre di Heidi. Alfonso, però, cerca di difendere l'uomo. Queste parole sono da parte di un padre preoccupato per la figlia. Heidi non è uscita da un'ovatta che non avesse connessione con ciò che ci circonda. È una donna matura che ha fatto le sue scelte. Il blocco dedicato alla questione Heidi va avanti con i commenti dei suoi ex coinquilini dopo la sua uscita. Dopodiché, Signorini rivela che la Baci ha abbandonato il gioco dopo una telefonata con la madre durata solo 40 secondi. Molti dei fan dell'ex GFina, però, si stanno ribellando. In particolare, a ribellarsi sono i telespettatori che hanno compreso la preoccupazione del padre di Heidi. Considerata l'oppressione esercitata da Varrese. Messa in evidenza più volte dallo stesso Signorini. Eppure stasera la clip non mostra tutto quello che è successo tra Heidi e Massimiliano. Come i momenti in cui lei dichiarava di non voler avere questa relazione in quanto si sentiva oppressa e soffocata dall'attore. Questi telespettatori credono che tutto questo riesca a far passare come Varrese come vittima. A rispettare il pensiero di molti ci pensa Cesara Buonamici. Che non tiene in considerazione solo il confronto indiretta ma anche la vita in generale condotta da Heidi da Donna Libera. Non me la sento di dare alla famiglia dei retrogradi. Si vede la vita di Heidi. Che non è stata tenuta al guinzaglio. Non so perché il padre sia partito da Pescara. Con Massimiliano non è accaduto niente. Oltre gli sguardi e i no. Un niente che è stato sotto gli occhi di milioni di persone.